Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi per gli spostamenti mattutini in A1 tra Calenzano e Vio 1 Variante, in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Prato Ovest e il Bivio con la 1, tutto verso Firenze, in Fipirita, la Strassigna e Firenze Scandicci, ancora una volta verso il capoluogo. Per il traffico ferroviario segnaliamo che la circolazione è sospesa sulla linea faentina tra Faenza e Marradi per avverse condizioni meteo. La riattivazione è attualmente prevista per le 12 di oggi. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, torna in settimana Pitti Immagine alla Fortezza d'Abbasso, attenzione ai provvedimenti di mobilità per allestimento, mostra e smontaggio in zona. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città aeroportale di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!